La Dea Bendata Baciarocca Bacerana al bar Randevu Caffè in Biappia a Tufara Valle è stato centrato un 5 con Superstar al Superanalotto. Il fortunato avventore si è portato a casa con una schedina da appena 3 euro, la somma di 2 milioni 30 mila 628 euro. Fortunatamente stavolta è toccato anche al nostro bar un po' di fortuna, siamo contenti sia per noi che abbiamo avuto questa soddisfazione e sia per chi li ha vinti. Facciamo i nostri migliori auguri. Lei ha idea di chi può essere stata ad aver vinto? Che tipo di clientela c'è in quest'area? È una zona industriale? Assolutamente non abbiamo idea perché sono tanti i clienti che passano da noi e un medio alto come tipo di clientela. È stata giocata una schedina molto semplice da 3 euro, una spesa esosa. E comunque ha realizzato una bella vincita il signore che ha vinto. Voi come l'avete saputo? Beh a noi ci arriva una bacheca dove ci sono tutte le vincite e così l'abbiamo capito. Speriamo che questi soldi siano andati a qualcuno che ne ha bisogno. La notizia della vincita al Super Enalotto si è diffusa rapidamente a Rocca Bacerana, suscitando un pizzico di invidia e la speranza che ne possa venire fuori qualcosa di buono per la Valle Caudino. Beato lui, mi dispiace che non sono io il vincitore, che vengo tutti i giorni qua, ma purtroppo non sono io il vincitore. Come tanti auguri. Vorrei essere nei suoi panni, ma è come in questo caso. Gli auguro comunque di viverseli bene e di aiutare quante più persone possibile. Beato lui, peccato che non siamo stati noi vincitori. Siamo frequentatori di questo bar, ma questa volta non abbiamo incontrato la fortuna. Un messaggio a chi ha vinto. Auguri, auguri veramente, auguri. Complimenti, auguri, speriamo che sia locale e che questi soldi rimangano nella Valle Caudina. È un piacere per la Valle Caudina e spero che sia una persona locale. Spero che rimanga nella Valle Caudina questa persona, non è che vada altrove, per il bene di tutti.